Provate a pensare, provate a pensare, se è uno dei suggerimenti, provate a fare l'esercizio di dire ok, la posizione Travaglio e di tutti questi altri finti pensatori che dicono lasciamo stare, non diamo alcun aiuto eccetera eccetera, vincesse. Possiamo pensare, possiamo pensare che la posizione Travaglio, Corradino Mineo, la filosofa lì putinista, l'altro come si chiama, il finto esperto internazionale Urshini, vincesse. Quindi l'Occidente e tutto, anche Biden, dice d'accordo guardate Ucraini mi dispiace, non possiamo darvi più nessun aiuto, arrangiatevi, fate la pace. Ok? Arrendetevi perché più che fare la pace arrendetevi. Arrendetevi, allora forse alcuni di loro si arrenderebbero, altri fuggirebbero, altri continuerebbero a combattere. Ci sarebbero dei maggiori massacri, certo, Putin si prenderebbe l'intera Ucraina o un pezzo grande di Ucraina, a quel punto tutto direi no? Che so, ne sono già fuggiti 6 milioni, 7 altri, non so, 10 milioni di Ucraini fuggirebbero dall'Ucraina, dico un numero a caso, forse 15, dicendo noi non vogliamo vivere come schiavi, come servi, sotto il tallone russo. L'Europa dovrebbe come conseguenza trovare un posto dove dar da vivere a 15 milioni di persone, 15 milioni di persone, due svizzeri. Un'Ungheria in mezzo, che si sposta, che va senza nulla, nulla. Certo, a questo punto anche gli adulti, anche i maschi che prima adesso non possono uscire per via dei... Sono lì a combattere, non ho una pistola nemmeno, mi arrendo. Quindi punto numero uno, 15-20 milioni di persone a cui trovare casa, lavoro. 15 milioni di persone che alla fine ti odiano, odiano forse i russi, ma ti disprezzano perché non gli hai dato una mano quando c'era uno che li voleva far fuori. Però dove li ammazzi? Li volete ammazzare? Non lo so, non so quale sia la soluzione che hanno in mente i travagli. Mettiamo i nostri cari armati al confine e li respingiamo, diciamo no, 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 voi siete carne a cannone, tornate in Ucraina, diventate schiavi. No? E poi? E poi cosa? Dopo di questo cosa succede? Oltre a questo dramma umano, cosa succede nell'Ucraina? Cosa fa il regime russo? Celebra la vittoria. Il 9 maggio, se l'invito di travaglio e di compagnia cantante viene accolto in tempo utile, mettiamola così per Putin, organizza una bellissima sfilata. Ne fa due, una a Mosca e una a Kiev. Dicendo, bellissimo, ho ricostruito l'impero russo. Si rafforza, la repressione interna aumenta, la dittatura si consolida. Noi guardiamo e visto che si è preso quello, perché non si prende la Moldavia. e a questo punto, perché non si prende le Baltiche e la Georgia, ricostruisce l'impero russo. E noi? Noi gli consigliamo di arrendersi, ovviamente. E beh, per quel punto noi consigliamo di arrendersi. E poi cosa facciamo? Ricominciamo a commerciare allegramente, riapriamo le ville a Forte dei Marmi e gli hotel e diciamo ai russi ma prego, con i soldi degli ucraini, con il sangue degli ucraini, ma venite in vacanza in Italia, in Spagna, andate a visitare Parigi, comprate le scarpe di Gucci, le borse di Bottega Veneta, le mutande di La Perla, i reggiselli identissimi, non lo so. Venite a mangiare nei nostri ristoranti a tre stelle, per carità, gli ucraini sono lì e è nato il terrorismo ucraino. Ci sono uomini e donne ucraine che non accettano di essere servi e schiavi per sempre e si ribellano e uccidono, cercano di mettere bombe. Magari, sapete, sentendosi traditi da noi, magari qualche bomba la mettono anche a Venezia, anche a Roma, anche a Parigi. Voi direte terroristi, criminali, li arresteremo, li condanneremo. Ma perché questa è l'implicazione concreta della proposta Travaglio e Company, Conte e Company. Non so chi sia il capo di quella banda. Non voglio metterci il Papa, spero solo che non stia bene, che non capisca, che pensi di essere tornato in Argentina quando ha consegnato i suoi compagni di Gesuiti a Massera che li hanno fatti fuori ai criminali, ai generali argentini. Non lo so, lasciamo stare il Papa, che poi la gente si offende perché dice ma il capo del cattolicesimo. Vabbè, il Papa magari prega. Davvero, perché questa è la conseguenza molto rapida, che potrebbe accadere in pochi mesi, se accettassimo la proposta dei cosiddetti pacifisti italiani. Io non ho altro da dire. Provate a pensare, a vivere nei prossimi anni e decenni così.